Ops, ho girato la teglia, grazie. Fane un altro sentimento. È un altro tempo, ma ci sta, forse addirittura meglio. Vai, vai, vai. La scala veloce la portata è incredibile. ma tutto meglio tranne proprio l'inizio è perfetto mio cane è perfetto è perfetto cosa dice il produttore male un po' meno soldi questo però me l'hai riconvinto sono delle cose bellissime sono delle cose stra belle è danzì Figo, facciamo un altro po' di volta? 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 Figo... 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 Figo...